di avere qui oggi, il 17 novembre sabato, il dottor Antonio Patti, che terrà una lezione magistrale sul quale tutto per i medici di docena generale. Dottor Antonio benvenuto, noi abbiamo la possibilità attraverso il nostro sito internet di raggiungere i colleghi navigatori e quindi attraverso questo netto avremo piacere di dare un saluto ai colleghi, in particolare ai medici di famiglia, ai quali è dedicata questa giornata. Gianni, grazie veramente dell'invito, è veramente lieto, adorato, di salutare i medici di famiglia della provincia di Latina, cercare di portare il mio modesto contributo in un momento che è difficile, la nostra professione che sta sicuramente cambiando, tu dicevi navigatori su internet, insomma Aristotele dell'etica al Nicomaro dice che le caratteristiche del medico principale è la tecnica cibernetica, cioè la capacità di guidare il malato attraverso le difficoltà della malattia. Noi abbiamo una doppia difficoltà di guidare il malato, non solo delle difficoltà della malattia, ma anche delle difficoltà che la migrazia tutti i giorni ci pone, che il sistema sanitario così complesso ci costringe ad affrontare e quindi quella di essere anche avvocati, difensori, cittadini è sicuramente un compito grande e importante, non solamente quello di essere i difensori del malattia. Questo è un messaggio tanto per cominciare e che lo stiamo a vedere. Io ti ringrazio Antonio, adesso cominciamo la lezione, io ho aperto i colleghi attraverso Intet che riusciremo a fare anche una registrazione, un dibuti e questo arriverà, per chi ha piacere, arriverà a casa dei colleghi che non sono potuti intervenire qui oggi.